Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Calma! Calma! L'arpettina sta lavorando, bro, eh? Belli, Jack? Belli? Bello! Bello! Buono, questo è buono, questo è buono. È buono, cazzo! Cazzo! Eh, però sono soldi, eh? Stiamo sognando. Dai! Sì! 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 Stiamo lavorando per due adesso. Vabbè, sono 60€ in più. Bello però, bello! Si restano i giri. Bro, la merda! Sì, sì. Vero? Cap! Andiamo, andiamo, andiamo a qualche, come una, non pragmatic, come si chiama quell'altro provider, tipo la Book of Dead, le cose. La la Plengo? Eh, vai a qualche Plengo? Vai, tipo. La Legacy of Dead. Un bel papà. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 150 a testa. Ma sei sicura che vuoi perderli? Gab! Non che dopo che li perdiamo ti dispiace e ti metti a piangere. Manda. Se davvero dici così, manda. E' una segretta elettronica proprio. Però ho portato anche Laikos. Questa stucca però la rompo. Napoli, 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 Napoli. Grazie, Padoan. No, prendere le distanze. Padoan, Michele, prendere le distanze. Grazie, grazie per i nove mesi, per gli otto mesi. E' una segretta. E' una segretta. E' una segretta. E' una segretta. lì, porco Dio. Ma non era voluto, eh. E non l'abbiamo fatto apposta. Cioè, pensavo... Abbiamo visto che chi mi hanno messo l'idio, porco. Abbiamo visto. E' una bella ficca, Michele. Anche io ogni tanto non è che... Non era venuta apposta per lei. Era qui perché comunque siamo sempre... E' capitato. Ragazzi. No, ma raga, scotta. Ti prego. Non andare a sinistra. Non andare a sinistra. Non andare a sinistra. E' una segretta. E' una segretta. E' una segretta. E' una segretta. Mary, Mary, l'hai detto, Mary. L'hai detto, Mary. L'hai detto, Mary. Cazzo, l'hai detto. L'hai detto. No, qua non è un cazzo. Quindi perdiamo il tiro, però rimangono quelli. Pazzo. E qua non si ri-hit. Ok, continuo. Pazzo, mi piace. Eh, tosta però, eh. Tostissima, madonna. Qua si ingroppano un po'. Qua c'è un po' di wild. Piazzati bene. Oh. Qua non hitta un cazzo, praticamente. Qua si ingroppano. Ma sono pure quelli. Eh. No, non ci riesco. No. No. No, no. No, non c'è un po' di calcio. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Continuolo. No, no. Che roba malata è? Ma che cazzo ne sono? L'hai inventato adesso? L'hai inventato adesso? Sì. Bello, questo ne sia. Ci passi? Oddio, perché ce l'ha il 5K? Che fai, donna? Mi vivi per il culo? Ma cos'è sta trollata? Come ti permetti? Ma ci prendono in giro! Ci prendono in giro! Mi piacciono se me lo dai, non possono tornare qui. Grazie, arancia pelata per il Prime, benvenuto. Ma cos'è? Un bug? Vabbè, 15K quindi abbiamo vinto, bro. Giocherigno che sei infiltrato nel sistema. Mi puoi mandare gli soldi? Tu ci scherzi, ma ero così, eh. Ero così, ero così. Non ci scherzo adesso, ma purtroppo ero così e la gente può essere così. Ahimè. Grazie Nicolò. Sono d'accordo Dalila, adesso però si va a prendere quel che è Shunt. Ho recuperato il bonus... No, mi danno il bonus. Mi schiaaa! Io mi ingedoresirei semplicemente questo. Tu sei ancora un ragazzino, invece l'uomo capisce. E non ha niente da temerire. Giusto, giusto, giusto. Chat, voi come reagireste? Ehi, buone feste! Rilangia un po'... Sei a spara. Faccio la linea a casa? No. Se poca roba. Se itta qualcosa col mezzo. Ciao, morta. Morta. L'ultimo giro così. Tristissimo. Prendiamo uno ad 80. Evidio Tristissimo. Non Non Il Il è è ma nera nera quel 250 cosa gabban no ma è vero i cinesi sono bravi nell'ordine ma cosa c'è no no vabbè ma no perché è successa una piccola m world ma chi? ma che stai